Strategia e-commerce, il podcast con novità, commenti e interviste sul mondo e-commerce italiano. Ciao, benvenuti a Strategia e-commerce, sono Emilio Lodiciani e oggi volevo parlarvi dell'inbound marketing. Che cos'è questo inbound marketing di cui spesso, immagino, abbiate sentito parlare? Si tratta della tecnica di marketing con la quale io attiro gente che fa il primo passo verso di me. Quindi qualcuno sta cercando ciò che io offro e io faccio in modo di farmi trovare e di creare un percorso per queste persone perché arrivino verso di me, verso i miei prodotti e servizi con delle fasi successive. Si differenzia da quello che ha detto outbound marketing, che è il marketing tradizionale tipo pubblicità in televisione, tipo pubblicità da qualche parte, quindi metto da qualche parte la mia inserzione e la mia pubblicità e spero che poi di beccare anche il mio potenziale cliente. Invece nell'inbound io faccio in modo di farmi trovare a chi per primo però sviluppa l'interesse verso di me. Più facile capire cosa è questo inbound marketing se usiamo uno schema che è quello di HubSpot. HubSpot è un sistema americano che propone i suoi servizi proprio per l'inbound marketing già da tanto tempo ed è forse quello che ha dato il maggiore contributo al concetto e a farlo conoscere e lo ha promosso, lo ha anche molto strutturato. E quindi diciamo che ci sono queste quattro fasi dell'inbound marketing, detti anche quattro pilastri dell'inbound marketing, che sono i seguenti. Prima fase o primo pilastro, quello dell'attrazione. Quindi come si fa ad attrarre il potenziale cliente? Si fanno ad esempio dei contenuti, articoli sul blog, lavoro sul SEO per parole chiave specifiche, social media, potrebbe essere pubblicità pagata. In questo modo chi sta cercando una cosa troverà il mio articolo di blog, troverà la mia pagina con parole chiave SEO opportune, troverà il mio intervento su social, troverà la mia pubblicità che compare. In questo modo io attraggo. Quindi prima fase dell'attrazione. Seconda fase della conversione. Quindi alla fine della fase dell'attrazione avevo un visitatore che era arrivato sul mio sito internet a tratto appunto dal contenuto che io avevo prodotto. Questo visitatore poi nella fase della conversione si trasformerà in un lead. Come avviene la fase della conversione? Avviene tramite delle form dove io gli propongo delle cose, dove immagino che lui andrà a inserire il suo email, perché lo farà, adesso lo vediamo, delle call to action, delle landing page e cose di questo genere. Perché la gente si convertirà? Perché ad esempio gli propongo un materiale gratuito, un freebie, gli propongo un ebook, gli propongo la mia newsletter dove lo tengo aggiornato su un determinato argomento, gli propongo un white paper, gli propongo qualche cosa, dei pdf con delle informazioni utili, un calendario editoriale, questo lo fa ad esempio Shopify, gli propongo numerose cose che nel suo mondo per lui sono di valore. Allora lui cosa fa? Per ottenere queste mi dà il suo nome, il suo indirizzo mail e si è quindi convertito in un lead per me, nel mio funnel di conversione. e quindi abbiamo terminato la seconda fase, abbiamo convertito la persona che è arrivata in un lead, qualcuno che è potenzialmente interessato ai miei prodotti e servizi, anche solo in una fase gratuita inizialmente, però diciamo è interessato al mio mondo. Bene, a questo punto fase successiva, la fase di chiusura. La fase di chiusura che cos'è? E' la fase in cui prendo questi lead e li trasformo in clienti. E come posso fare? Ci sono diversi modi. HubSpot ad esempio diceva, ok, usa l'automation, il marketing automation, che è cosa che oggi si sta diffondendo molto, e ad esempio dice, ok, creiamo un flusso di email successive, in cui mentre gli do contenuti, non so, ad esempio quelli a cui si è iscritto, tipo la newsletter, gli mando anche altre cose dove gli dico, guarda, c'è questo seminario che stiamo facendo, e quindi lo porto magari a essere interessato a un mio prodotto, che può essere un seminario, che ha un costo, anche piccolo, però comincia a diventare cliente. Piuttosto che gli dico, guarda, se sei interessato, noi facciamo questo prodotto servizio. Gli lo dico con una certa cadenza, in un certo modo, per cui lui comunque, sappiamo già che era interessato prima, potrebbe diventare nostro cliente. Posso anche telefonargli, molto spesso in questa fase di chiusura, si identifica, sei identificato prima, se è un potenziale cliente interessante, si alza il telefono, guarda, buongiorno, abbiamo visto che ti serve questo, vogliamo sapere se ti possiamo aiutare, se ti può interessare a una certa cosa, e così via. Quindi ci sono in realtà parecchi modi, diciamo che in generale lo faccio tramite email, lo faccio tramite flussi di marketing automation, nel momento in cui un cliente è diventato una persona, è andato nella fase 2, nella fase 2 è quella dove lo converto, quindi arriviamo a trasformarlo in un lead, lì posso inserirlo in un sistema, in un CRM, per cui posso comunque seguire quel contatto, in diversi modi. Poi fase 4, fase finale, quindi supponiamo che appunto il lead si sia convertito in un cliente, abbia acquistato qualcosa, abbia acquistato un ebook, un corso, un qualsiasi cosa, nel caso di e-commerce un prodotto, a questo punto abbiamo la fase ultima, che è la fase del delight, in inglese, della delizia, in italiano, dove noi dobbiamo trasformare questo cliente in un evangelista, sempre la terminologia religiosa, quando parliamo di conversione, qui parliamo di evangelismo, evangelizzazione, quindi il diciamo questo cliente diventa talmente, diventa un cliente che fa marketing per conto mio sostanzialmente, come si fa? Ad esempio gli chiedo una recensione, quindi lì lui starà facendo il mio marketing, anche senza volere, nello scrivere una recensione, gli chiedo un feedback, gli chiedo di intervenire, o lo spingo a scrivere qualcosa su social, avrò diversi modi in cui lui comunque, oppure ci sono programmi di loyalty, piuttosto che programmi nel quale tu inviti un amico che otterrà uno sconto, in questo modo comunque io lo porto a diventare un mio evangelista, e questa è appunto l'ultima fase dell'inbound marketing, quindi riprendiamo il tutto, lo straniero diventa visitatore con la fase di attrazione, poi con la fase di conversione diventa un lead, con la fase di chiusura diventa un customer, un cliente, con la fase di delizia diventa un promoter, diciamo un evangelista, mi promuove lui, e il promoter poi attirerà nuovi stranieri, che ricominceranno a fare il giro, quindi è un circolo virtuoso, perché io porto il cliente a diventare mio promotore, e questo circolo, diciamo trascura comunque un aspetto, che c'è parallelo a questo, ed è quello che il cliente, poi sarà ancora cliente, continuerà a comprare, quindi non finisce qui, nel momento in cui c'è il tuo cliente, poi io comunque lo tengo col delight, con engagement, con retention, andremo ad avere nuove vendite dal cliente, ma pur tuttavia, essendo diventato un mio promotore, genererà anche nuovi contatti. Ora, questo nel mondo e-commerce, è abbastanza semplice, scalarlo su e-commerce, nel quale, quindi ad esempio, la fase di attrazione, è quella, appunto, posso farla con blog, keywords, social media, ma la farò più facilmente con SEO, sui prodotti, e con pubblicità sui prodotti, su scheda di prodotto, poi, quindi ottengo un visitatore, che converto in lead, e questa fase è più interessante, nel senso che, è chiaro che una, io qui devo convertirti in qualcuno, che mi ha dato il suo indirizzo email, sostanzialmente, questo può avvenire, proponendoti una registrazione, in cambio di un coupon, perché, nell'e-commerce, a volte si fa il salto troppo lungo, si dice, passiamo direttamente a vendere, a volte funziona, ma tante volte, perdo persone, perché non vado direttamente alla vendita, e quelle che non sono pronte, per comprare oggi, le ho perse, invece, l'alternativa, quindi usare l'inbound marketing, nell'e-commerce, vuol dire, inserire una fase intermedia, dammi il tuo indirizzo mail, per la newsletter, perché così restiamo in contatto, dammi i tuoi dati, e ti mando una guida, so, vendo integratori, ti mando la guida, sull'uso degli integratori, ma dammi i tuoi dati, perché, per un motivo o per l'altro, ti darò uno sconto, un coupon, qualsiasi cosa, non ti chiedo di acquistare adesso, se vuoi si vai, lì c'è il pulsante, ma se no, guarda che c'è anche quest'altra cosa, molto interessante per te, in questo modo, ti ho convertito a un lead, di cui ho i dati, e su cui quindi posso lavorare, con sistemi automatici, e quindi senza investire troppo tempo umano, allora fase successiva di chiusura, quindi il lead diventa customer, diventa cliente, perché ad esempio, ti ho contattato, ti ho proposto una cosa, e poi bam, ecco un bello sconto, e tu diventi mio cliente, quindi lì ho recuperato tutti quelli, che non hanno acquistato subito, può essere usato questo sistema, molto efficiente, poi attenzione, e qui un'altra cosa importante, fase di delight, fase di delizia del cliente, quindi come faccio a deliziare cliente, beh, posso farlo in tanti modi, un ottimo servizio clienti, la richiesta di, vabbè, chiaramente, mi interessa la tua opinione, fammi recensione, fammi quant'altro, ma anche, non so, ti tratto molto bene, ti do uno sconto esclusivo, ti faccio entrare in un club, ti do qualcosa che non ti aspettavi, e così via, e questo fa sì che lui diventi mio promotore, che attiri nuove stranieri, che ripercorrono tutto questo meraviglioso funnel, proprio, diciamo, facendo la strada, da stranger a promoter, attraverso le quattro fasi, quattro pilastri, dell'inbound marketing. Per oggi, chiudiamo qui, mi farebbe piacere ricevere un vostro commento, una vostra domanda, o qualsiasi cosa, via email, a podcastchiocciolaemigliolodigiani.it, e per ora vi saluto, e ci sentiamo alla prossima, ciao!